La voce informale sembra che dopo il clamore che c'è stato in poche ore potrebbe essere revocato lo schema di affidamento. Allora sì, da comunicazioni informali si prevede che la manifestazione di interesse e quindi la delibera a monte della manifestazione di interesse venga ritirata per una modifica. Io lo auspico per un semplice motivo, non perché sia per forza Croce Rossa a doverla fare ma alla convenzione, ma sicuramente perché cambiando magari la modalità di svolgimento della stessa manifestazione di interesse o gara potremmo avere degli standard maggiori che invece così facendo sono affidati solo ad un mero sorteggio quindi alla sorte e alla fortuna dell'associazione che viene pescata. Nel caso in cui non dovesse cambiare e restasse tutto così cosa farà la Croce Rossa? La Croce Rossa sicuramente ha già fatto una lettera al direttore generale dell'azienda ospedaliera dove metteva in risalto alcune problematiche circa la manifestazione di interesse che vedeva Croce Rossa sotto certi punti di vista fuori da questa possibile partecipazione quindi a meno che loro non provvedano al cambiamento e o ritiro di questa cosa Croce Rossa comunque intende andare avanti andare avanti non tanto per, torno a dire, la giudicazione per forza della postazione tipo aria animativa quanto per far valere un diritto che è comune a tutti. Ne è nato un polverone comunque enorme, no? Sì, ne è nato un polverone, leggo su vari network di vari attacchi io credo invece che sia stato solo forse un eccesso di zelo più che altro che può essere tranquillamente rettificato senza creare altri allarmismi, senza alcun problema poi spetterà loro decidere alla dirigenza dell'ospedale cosa ha da farsi